Già c'è una prima risposta, un'approvazione di un decreto stile Genova che però a nostro avviso, io lo sottolino da subito, va perfezionato perché occorre la presenza dell'azienda, ma un decreto pronto, annunciato dalla Ministra che per noi e soprattutto credo per i lavoratori risulta essere sostegno al reddito e quindi in questo momento si preannuncia un periodo che si può più sopportare.